Quello scoperto negli ultimi giorni non sarebbe l'unico caso. Anzi, in base ai risultati dei controlli avviati dal Dipartimento Lavoro sui circa 2.800 ex-PIP del bacino Emergenza Palermo, sarebbero almeno un'ottantina i precari con un reddito superiore alla soglia prevista per ottenere il sussidio da parte della Regione. Alcuni di questi raggiungerebbero anche i 300.000 euro 15 volte il tetto massimo. Anche per loro scatterà l'espulsione, come per il precario milionario scoperto dal Dipartimento. L'ex-PIP riceveva 832 euro al mese dalla Regione, ma in realtà il suo reddito ISEE, ovvero l'attestato che consente di accedere a prestazioni sociali agevolate, è di 150.000 euro. La soglia è di 20.000. È un patrimonio di oltre un milione di euro tra lui e la sua famiglia. Stiamo scoprendo situazioni incredibili, commenta il Presidente della Regione Crocetta. Mi chiedo come sia stato possibile creare falsi precari, dando loro un sussidio e togliendo risorse alla gente veramente bisognosa. Non è solo una forma di risparmio, ma di giustizia nei confronti dei poveri e di chi ha reali necessità, aggiunge Crocetta, secondo il quale prima questi scandali venivano occultati. Questa è una risposta concreta a chi ancora nutre i dubbi sull'azione di immoralizzazione e di lotta agli sprechi che stiamo portando avanti, conclude il Governatore. L'anno scorso la Regione aveva espulso 87 precari per diverse irregolarità, tra questi anche alcuni che beneficiavano del sussidio nonostante si trovassero in carcere anche per reati di mafia.